Buongiorno a tutti, saluto i colleghi in presenza e anche quelli collegati da remoto e saluto in particolare il nostro ospite, il ministro plenipotenziario Alberto Cutillo, che è direttore dell'Uama, unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento, che ringrazio per la disponibilità. Informo che, come di consueto, l'audizione è trasmessa anche sui canali web del Senato e l'audizione si inquadra nell'esame che la Commissione sta svolgendo sulla relazione annuale per il 2020 sulle operazioni autorizzate per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento. La scorsa seduta il vicepresidente Candura ha svolto la sua relazione che è stata distribuita e sappiamo che la relazione è frutto del lavoro di diverse... la relazione è diciamo fatta a noi, non la relazione di Candura, in quel caso è un frutto del Senato, ma la relazione che viene presentata sulla legge 185 è frutto del lavoro di diverse amministrazioni ed è un testo complesso, anche perché questa legge, la legge 185, dettaglia con estrema precisione, gli elementi che deve contenere. Ma appunto, dato che si tratta di una complessità di lettura, perché è molto particolarizzata, ma poi sfugge un po' il quadro d'insieme nella lettura, abbiamo deciso di svolgere un breve ciclo di audizioni che parte appunto dal nostro ospite di questa mattina, vedrà poi il generale Falsaperna, che è segretario generale della difesa. Non voglio prendere più tempo a voi, al nostro ospite, e cedo subito la parola al Ministro Cuttillo. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie per l'invito, per me è un grande onore essere qui e ringrazio Vice Presidente per aver fatto una relazione già esaustiva e quindi potrei dire, per semplificarvi il lavoro, che non ho nulla da raggiungere. Seriamente sarò breve, aggiungerò qualche piccolo commento, forse ritengo più utile, Presidente, che poi io possa rispondere alle domande o precisazioni da parte dei senatori. In sintesi, intanto sulla relazione, appunto come diceva la Presidente, la relazione è un lavoro collettivo e il coordinamento spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi le varie amministrazioni interessate presentano le loro relazioni. Quella degli esteri, diciamo UAMA, in quanto parte del Ministero degli Esteri, del Ministero delle Economie e Finanze, delle dogane, sono molto corpose perché hanno tutte le tabelle relative a tutti i trasferimenti distinti nelle varie categorie, le esportazioni, le importazioni, sia quelle durature, diciamo, definitive, sia quelle temporanee, legate quindi a solo eventi tipo fiere o manifestazioni o prove, diciamo, di materiali che vengono mandati per essere poi riportati in Italia, divise poi per area geografica, per tipologia di materiali. Quindi mi rendo conto che la relazione alla fine è un mattone, come si suol dire, di oltre 2000 pagine che richiede un grosso sacrificio per chi vuole navigarci dentro. Credo anche però che possiamo dire che c'è un vantaggio, nel senso che questa è la relazione, a mia conoscenza, più ampia e dettagliata al mondo, non c'è nessun altro Paese di cui abbia conoscenza che presenta una relazione al Parlamento con tutte queste informazioni che sono un po' ostiche, però volendo dicono praticamente tutto, cioè si può trovare tutto quello che è stato effettivamente esportato, trasferito e un lettore avvertito riesce anche a colmare quei gap, diciamo, di informazione che sono lì per tutelare la riservatezza dell'attività economica, ma insomma con uno sforzo di, un po' di immaginazione spesso si riesce a capire qual è l'azienda che ha fatto quella determinata esportazione in quel determinato Paese, quindi in realtà la relazione contiene una grande abbondanza di elementi e credo questo sia un simbolo, diciamo, sia un segno di trasparenza e quindi va preservato. Sicuramente però può essere forse articolata diversamente e quindi resa più facilmente fruibile. Premesso che l'interlocutore in questo caso per il Parlamento è la Presidenza del Consiglio, quindi io non posso parlare a nome della Presidenza del Consiglio, ma sono sicuro che come da noi e anche nelle altre amministrazioni che sono parte della relazione ci sia la massima disponibilità, se il Parlamento con un atto di indirizzo o comunque con le forme che riterrà opportuno chiedesse degli aggiustamenti, anche se semplicemente in un modo diverso di presentare le informazioni, sono convinto che tutte le amministrazioni darebbero la massima attenzione a questa richiesta. Noi nel nostro piccolo quest'anno abbiamo cercato di fare qualche piccolo aggiustamento. Innanzitutto abbiamo un pochino irrobustito la parte introduttiva, diciamo, le prime 20 pagine circa della relazione, proprio per dare un po' una narrativa di quello che era successo durante l'anno sul piano internazionale e sul piano nazionale e spero che quindi si trovi qualche informazione in più rispetto al passato. Poi abbiamo aggiunto, e questo devo dire è stata l'iniziativa del sottosegretario Di Stefano che ha la delega al Ministero degli Esteri per i materiali d'armamento. Abbiamo aggiunto due tabelle alla fine della parte introduttiva, una con i Paesi oggetto di misure di embargo a livello internazionale, con un breve riassunto della natura di queste misure che quindi possono consentire rapidamente di verificare anche il rispetto ovviamente da parte delle amministrazioni italiane responsabili nel non trasferire in questi Paesi naturalmente, non consentire il trasferimento in questi Paesi dei materiali vietati. E poi una tabella con tutti gli accordi di cooperazione nel campo della difesa che l'Italia ha a livello bilaterale. La tabella ha solo l'elenco perché sono molto numerosi, ma ci sono i link per poter poi andare anche a leggere il testo dell'accordo, quindi per chi volesse approfondire la materia credo sia utile. E infine, ultimo dettaglio, questo veramente mi rendo conto sembra una minuzia, abbiamo aggiunto la data di concessione delle licenze di esportazione e importazione. Anche questo credo sia un gesto di trasparenza perché naturalmente questo consente anche di identificare il momento preciso durante l'anno in cui è avvenuta questa decisione e quindi anche qui di verificare se è conforme alle misure adottate a livello nazionale o internazionale nel corso dell'anno. Quindi credo che già senza modifiche legislative e senza una richiesta specifica da parte del Parlamento abbiamo fatto questi piccoli passi in avanti, ma sicuramente, come dicevo all'inizio Presidente, siamo ben lieti di considerare ulteriori progressi. Vengo brevissimamente alla parte della relazione di nostra diretta competenza. Come sapete, la parte del Ministero degli Esteri si concentra sulle licenze. Quindi se vogliamo la relazione è un po' un film in cui ci sono tre serie di diapositive. Quella delle licenze è quella che fotografa il momento in cui viene data l'autorizzazione all'impresa ad esportare il materiale. Quella che redige il Ministero delle Finanze con i flussi finanziari fotografa il momento in cui l'azienda incassa dal cliente in un'unica soluzione o viceversa in varie rate, anticipi e quant'altro il compenso per l'esportazione. E quella delle dogane fotografa il momento in cui passano attraverso la dogana le merci. Quindi a seconda dei casi ci possono essere degli scostamenti anche di anni. Pensiamo a quelle grandi commesse per tutta una serie di attrezzature militari che devono essere prima costruite e poi esportate. Alcune licenze hanno addirittura durata decennale. Quindi è possibile che oggi noi fotografiamo nella relazione del Ministero degli Esteri la concessione della licenza ma ancora nel 2030 staremo a registrare nei movimenti doganali e nei movimenti finanziari l'impatto complessivo di questa licenza. Il momento della licenza comunque è quello giuridicamente importante perché autorizza l'azienda a procedere con l'esportazione e quindi sicuramente è giusto anche in una certa misura concentrarsi innanzitutto su questo aspetto. Nel 2020 il valore complessivo delle licenze è leggermente calato rispetto al 2019 come illustrato nella vostra relazione. A mio modo di rivedere non abbiamo elementi per dire che ci sia stato un restringimento degli spazi di mercato. Queste cifre sono molto facilmente soggette a oscillazioni sulla base di commesse importanti che possono rovesciare il quadro o far passare da più a meno il segno delle esportazioni. Quindi la mia impressione è anche giudicare dal numero di licenze concesse dei paesi destinatari e che sia stato un anno di continuità sostanzialmente con il 2019. A dire il vero anzi se guardiamo non solo le autorizzazioni individuali, quelle che appunto le aziende devono ottenere per ogni singola fornitura, ma includiamo quelle di carattere generale e globale che tra l'altro sono uno strumento di semplificazione perché l'azienda con un'unica licenza può esportare vari oggetti durante l'anno anche a vari destinatari. Quindi sicuramente questo riduce l'onere amministrativo per le aziende e per fortuna questo strumento è sempre più usato per cui l'anno scorso il calo delle licenze individuali è più che compensato dall'aumento delle licenze di carattere collettivo. Quello che è stato molto inferiore è il valore di una voce che è anche un po' misteriosa, lo capisco per molti, le intermediazioni. Nel 2019 le intermediazioni avevano raggiunto un valore molto alto, quasi circa mezzo miliardo di euro, invece nel 2020 sono stati 54 milioni, quindi questi 400 e passa milioni di differenza alla fine danno un saldo negativo che altrimenti sarebbe stato positivo, seppure leggermente. Non è cambiata sostanzialmente la geografia di queste esportazioni, di queste licenze che vedono l'area medio orientale, il vicino oriente e l'area dei paesi nato come la sua vuole assorbire la grande maggioranza delle esportazioni. A livello di singoli paesi l'Egitto si è confermato nei due anni il primo mercato per le esportazioni italiane. A livello di aziende continua la grossa concentrazione, nel senso che le prime 3-4 aziende fanno sostanzialmente l'80% delle esportazioni. In realtà la platea delle aziende è abbastanza ristretta, perché come sapete le aziende devono essere iscritte in uno specifico registro e se in questo registro vi sono circa 300 aziende, però nell'anno 2020 solo poco più di 100 hanno effettivamente esportato e più o meno questo numero è di nuovo stabile nel tempo. Quindi in realtà noi abbiamo un numero ristretto di grandi aziende che fanno il 90% del mercato e poi abbiamo un centinaio di aziende medio o medio piccole che contribuiscono per la restante parte. Quindi grossomodo qualche azienda è salita, qualche azienda è scesa, ma nel complesso il quadro non è particolarmente cambiato. Questo ci fa dire anche che l'impatto della pandemia, benché sicuramente si è fatto sentire, a livello di licenze non ha avuto grossi impatti. Devo dire, leggendo le relazioni anche del Ministero delle Finanze e delle dogane, direi che questo vale anche dalla loro prospettiva, quindi dei flussi finanziari e dei movimenti di merce che sono in entrambi i casi aumentati, anzi nel 2020 rispetto al 2019. Naturalmente non so se voi farete audizioni anche con rappresentanti di queste amministrazioni, sicuramente potranno essere più precisi in materia, ma se ci sono delle domande posso provare a rispondere nella misura in cui anche io ho letto come voi la relazione una volta la loro presentata. Quindi in sostanza ribadisco la sostanziale continuità del 2020 rispetto al 2019, non mi sembra che anche per tipologia di materiale ci siano state particolari novità, sostanzialmente quasi tutti i paesi che sono nei primi 25 erano anche nei primi 25 l'anno scorso, quindi non ci sono state sorprese sotto questo aspetto. A livello europeo forse c'è qualche calo, ma le cooperazioni europee sono molto complesse, quindi a volte le cifre delle esportazioni non danno totale contezza. Tra l'altro andrebbero lette insieme, appunto come accennavo prima, alle esportazioni globali e generali che sono o esclusivamente tra paesi europei o comunque limitate a paesi europei e pochi altri. Quindi in realtà se voi vedete la tabella principale, quella che in genere riceve la maggiore attenzione con la classifica per paesi, praticamente il valore destinato ai paesi europei è sottostimato rispetto al totale reale, che per la prima volta abbiamo inserito in una tabella successiva, ma è un po' un azzardo perché le autorizzazioni globali generali in realtà sono permesso a esportare, non necessariamente poi verrà esportato il 100% di quello che vi è indicato. Però abbiamo pensato a livello informativo di aggiungere questo elemento, effettivamente si vede che paesi europei che nella classifica tradizionale sono un po' più in basso di quello che si potrebbe pensare, invece risalgono in questa classifica. Ecco, io mi fermerei qui, Presidente, se mi consente, naturalmente dedicherei il resto del tempo che i senatori vorranno passare a rispondere, a cercare di rispondere alle domande. Grazie, grazie per le spiegazioni, per i dettagli, anche per averci spiegato anche rispetto alle varie tabelle che avete inserito, quali sono i criteri, quali sono le letture possibili. Apro quindi ora alle domande, prego al Vicepresidente Candura. Grazie Presidente, grazie per le precisazioni e spiegazioni. Io ho una domanda che non so, anche allo stricolo che ha detto lei, se è, diciamo, centrata rispetto all'Esp, però spero che le faccia ripolle. La faccia, no, al valore delle spostazioni 2020-2019. Ecco, lei ha dati sul tendenziale degli ultimi, diciamo, 4-5 anni per quanto riguarda il volume e l'impatto economico, diciamo, il valore delle spostazioni manuali? Grazie. Grazie, Senatore Candura. Altre domande? Ne ho io. Si, interverrà io. No, prego, Senatore Batuone, prego. Sì, grazie. Mi scusi, ma non sono riuscito a farmi prenotare. Sì, grazie Ministro. Io ho sempre una domanda relativa, diciamo, all'introduzione, alle modifiche che sono state introdotte nel 2020 al collegato fiscale 2019, adesso non ricordo bene, relativamente all'attività contrattuale prevista anche in capo al Ministero della Difesa. Mentre prima c'era esclusivamente un supporto tecnico, è stata introdotta una modifica cosiddetta Gov2Gov per chi è ricercato. Volevo sapere da lei se, diciamo, questa modifica ha dato degli esiti, ci sono già esperienze in questi due anni di questo tipo, se è completa, se c'è bisogno ancora di alcune altre modifiche per renderla effettivamente operativa o comunque una sua opinione sulle modifiche che sono state introdotte e che intendevano, come dire, favorire gli accordi governo-tu-governo sull'esportazione. Grazie, Senatore Battuone. Aggiungo io una domanda, anzi due. Uno è se lei ha toccato il tema delle intermediazioni, che effettivamente è una questione che, diciamo, viene rilevata, nel senso che esiste come dato da rilevare nella relazione, però secondo me può essere utile spiegare, diciamo, di che cosa si tratta perché il termine potrebbe essere non facilmente leggibile. E l'altra cosa, invece, relativamente a quanto lei aveva detto sull'intervento anche del sottosegretario con la delega di Stefano, cioè quali sono i limiti, cioè ci sono dei limiti sulle tipologie di armamento che possono essere esportate e rispetto ai Paesi, quando sono appunto l'imbargo internazionale, in che cosa consiste, quindi voi per poter dire sì o no sulla base anche di questo inserimento della tabella, ma era, diciamo, quello che avete sempre fatto. Quando è che quindi è possibile esportare oppure no? Perché, come sa, ci sono spesso anche delle interpretazioni che vengono, che sono, diciamo, diverse dal punto di vista in cui si guarda la situazione. Quindi dice se un Paese in conflitto non si può esportare, ma se il conflitto è autorizzato dall'ONU allora, quindi quali sono le limitazioni, quindi quali sono di fatto gli elementi ostativi o gli elementi invece che non possono essere ostativi con i quali voi vi confrontate nelle scelte che dovete fare. Grazie. Sì, grazie, tutte belle domande. Allora, forse la prima, Vice Presidente Candura, sì, noi abbiamo nella relazione e noi riportiamo sempre gli ultimi quattro anni, quindi a pagina, quella che è la pagina 15 della tabella degli esteri, c'è lo stesso valore totale che dicevo prima. Poi c'è anche un grafico, semplicemente, a pagina 18, che invece addirittura va indietro al 1991, fa vedere. Commento rapidamente, perché sostanzialmente questo grafico lo trovo molto istruttivo, tra il 1991 e il 2005 le nostre esportazioni hanno sempre oscillato attorno al miliardo di euro, chiaramente senza rivalutare per la perdita del valore d'acquisto in valore corrente. Poi c'è stata una rapida ascesa che ha portato dal 2005, dove dovevano essere circa un miliardo e 360 milioni, arrivare con continuità a 6 miliardi e 740 milioni nel 2009. Poi questa cifra è andata un po' altalenando ed è tornata giù a 2 miliardi nel 2013 e poi c'è stato un piccolo, storicamente il massimo ha raggiunto, 14 miliardi nel 2016, 9 miliardi nel 2017, dopodiché siamo tornati a stabilizzarci attorno ai 4-5 miliardi, che è il valore degli ultimi tre anni con piccole oscillazioni. Queste oscillazioni, adesso sarebbe troppo complesso andare a vederle una per una, però sono legate a delle mega commesse, in particolare quando un consorzio, pensiamo al consorzio dell'Eurofighter, vende a un paese terzo, una delle aziende del consorzio è capo commessa e quindi fattura tutto l'importo dell'esportazione che può essere, pensiamo a un numero importante di aerei, ad esempio anche nell'ordine di 5-10 miliardi. Il consorzio Eurofighter è fatto da 4 nazioni, UK, Italia, Germania e Spagna e quindi la nazione che è prime contractor in un determinato contratto fattura tutto, ma poi in realtà vengono distribuiti alle diverse nazioni, però quota sulla base di quella che è la loro parte di partecipazione al progetto. Ringrazio il Presidente che ha spiegato meglio di quanto potessi fare io il meccanismo e questo mi dà modo in parte di rispondere anche quindi alla domanda sulle intermediazioni, perché spesso le intermediazioni sono proprio lo strumento con cui si bilancia all'interno di un consorzio delle disparità, cioè se un paese poi alla fine per motivi contingenti in una certa commessa non esporta la quota che sulla carta gli viene assegnata, allora le le ditte che esportano di più gli subappaltano, diciamo così, scusatemi l'espressione sicuramente impropria, alcune parti di loro spettanza col meccanismo dell'intermediazione. L'intermediazione diciamo in principio è un concetto semplice, cioè un'impresa anziché direttamente fornire una prestazione o un materiale si rivolge ad un'altra impresa affinché fornisca o direttamente al cliente o di nuovo ad un'altra impresa che fa poi da tramite quella fornitura. Spesso sono servizi ma possono essere naturalmente anche materiali. Quindi la prima funzione è proprio questa di compensare eventuali sottorappresentazioni all'interno di una vendita di un consorzio di un determinato produttore. Quindi sono difficili da prevedere e gestire, sono un po' la conseguenza di quello che succederà dopo la firma del contratto. Quindi quando una ditta italiana, naturalmente è il caso più facile immaginare Leonardo sia capo commessa, allora risulta che tutta l'esportazione va al beneficio di Leonardo. Ma in realtà non è così, Leonardo farà transitare da un punto di vista veramente legale le esportazioni degli altri tre paesi, i produttori degli altri tre paesi e quindi la somma che va autorizzata dall'autorità italiana e quella complessiva. Ma poi in realtà ognuno si muove per i suoi canali. Quindi questi picchi che si vedono ogni tanto sono frutto appunto di questa particolare peculiarità. Quindi tornando al trend, io credo che il trend è abbastanza stabile, c'è questo zoccolo duro intorno ai 3-4 miliardi che più o meno si verifica ogni anno. Naturalmente cambiano i clienti, quindi non è detto che non è mai considerato acquisito, anche perché le forniture più grosse tendenzialmente poi non si ripetono più se non dopo parecchi anni. Quindi naturalmente la bravura delle aziende deve essere quella di trovare ogni volta nuovi potenziali clienti. Sul G2G, senatore Vattuone, naturalmente vedo che verrà il generale falsaperna, quindi sicuramente è la persona a cui porre il quesito in maniera più, potrà rispondere in maniera più approfondita. A mia conoscenza c'è stata una certa fase di incertezza dopo l'approvazione della modifica normativa sulla necessità o meno di adottare un nuovo regolamento di attuazione di questa misura. Per cui non c'è stato subito un'applicazione di questo G2G. Ci sono state delle riunioni tra i ministeri, ma tutte quante presedute dal Ministero della Difesa, quindi appunto in nuovo l'invito, non per scaricare, ma sicuramente perché potrà rispondere meglio di me. A mia conoscenza nel 2020 non sono stati chiusi i contratti con questa formula, mentre so che era in corso all'inizio del 2021 una trattativa con un paese, credo di poterlo dire senza svelare segreti, con l'Austria, però su questo lascio appunto a fonti più competenti di me darvi poi eventuali dettagli. Dal nostro punto di vista di UAMA noi ci preoccupiamo solo che naturalmente anche con questa innovazione che sicuramente ha dei potenziali venga rispettata pienamente la legge 185 e abbiamo avuto modo di constatare che così è, non cambia nulla in termini di procedure autorizzative, quindi il G2G è un supporto politico molto importante, ma non altera i meccanismi di autorizzazione che restano quelli della legge 185. Ecco, sulle terminazioni quindi in parte ho già risposto, poi a volte non sono frutto di calcoli particolari, un'azienda vende un certo prodotto, poi dovrebbe fare l'assistenza o la manutenzione per motivi vari, non è in condizioni di assicurarla, allora cede questa parte del contratto ad un'altra azienda e siccome però la licenza rimane intestata all'azienda che aveva acquisito questa autorizzazione, questa procedura si fa in massima trasparenza con un contratto di intermediazione, quindi normalmente l'azienda paga una certa somma per acquisire questo diritto e poi incassa dal cliente o da un altro intermediario, se l'intermediazione è più complessa, una somma che normalmente è più alta di quella che è versa e quello che compare nella relazione al Parlamento è il saldo tra quanto si paga per acquisire le intermediazioni e quanto si ottiene. Quindi è una cifra che appunto non è neanche questa facile da prevedere, è molto erratica come ho accennato prima, è passata da quasi 500 a meno di 50 milioni da un anno all'altro, magari l'anno prossimo risalto, è impossibile saperlo in antico. E vengo all'ultima sicuramente più complessa domanda sui limiti. Allora, tanto per esemplificare, questa è la tabella degli embargo, noi abbiamo riassunto in uno specchietto, ma naturalmente poi c'è il rinvio ai link delle organizzazioni internazionali, qual è l'oggetto dell'embargo e quali sono gli eventuali deroghe rispetto a questo divieto. Si passa da embarghi totali, pensiamo alla Corea del Nord dove non si può vendere alcun tipo di materiale in nessuna circostanza, a embarghi vice puntuali che vertono su alcuni tipi di armi o su alcuni destinatari. In realtà a volte l'embargo è soft perché non si applica alle autorità governative del Paese, quindi impedisce di vendere a qualunque soggetto diverso dalle autorità governative, ma diciamo che il 90% delle vendite comunque viene fatto nei confronti dei ministeri della difesa, degli interni e comunque espressioni dell'esecutivo dei Paesi. Quindi a volte l'identificazione è molto semplice e quindi siamo noi stessi della UAMA a dire no ad una azienda, perché leggendo i termini dell'embargo si capisce chiaramente che quel determinato Paese, quel determinato prodotto non possono essere esportati. Nei casi più complessi noi ci rivolgiamo all'interno del Ministero degli Esteri, alle direzioni geografiche competenti per un approfondimento politico e quando invece l'approfondimento è di natura tecnica per capire se il materiale in questione è effettivamente oggetto dell'embargo al Ministero della Difesa e quindi procediamo poi a continuare il processo di concessione della licenza o viceversa rispingere la chiesta. Non è facilissimo, e questo appunto ampliando la domanda anche al di là strettamente degli embarghi, non è facilissimo perché la legge, forse comprensibilmente lascia un margine di apprezzamento politico, come ricordava il Presidente, effettivamente la legge dice ad esempio, articolo 1,5, che non possono essere ceduti in materiali d'armamento a paesi in stato di conflitto che non siano però, mi sembrerebbe facile, se è un paese in stato di conflitto non si può esportare, no perché dice che non sia questo conflitto conforme ai principi della Carta delle Nazioni Unite, quindi in sostanza tutto il diritto all'autodifesa, che è un principio naturalmente sancito a livello internazionale, deroga a questo criterio. Quindi in realtà bisogna andare a vedere conflitto per conflitto se siamo in una situazione o meno prevista da questo articolo. Onestamente a mia conoscenza al momento almeno tutti i conflitti sono al di fuori di questa esclusione, perché in realtà se prendiamo forse il caso più spinoso, quello del conflitto in Yemen, dal punto di vista del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite, c'è un governo legittimo che ha fatto appello a dei paesi amici perché aiutino a ripristinare l'ordine sancito riconosciuto a livello internazionale e quindi la presenza degli eserciti di altri paesi è autorizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quindi non è vietato vendere armi perché siamo proprio in un'ipotesi prevista, un'eccezione prevista dalla nostra stessa legge. In altri casi non è altrettanto chiaro, quindi certamente c'è un margine di apprezzamento. Secondo me la clausola chiave della legge è il comma 1 dell'articolo 1 della 185 che dice che tutti i trasferimenti di materiali d'armamento devono essere conformi alla politica estera e di sicurezza dell'Italia. Quindi questo sposta nella sfera politica la decisione, nel senso che al di là dei limiti quindi chiari degli embarghi e appunto del richiamo che facevo prima dell'articolo 1,5, è sempre un apprezzamento politico decidere se sia o meno opportuno esportare armi in un paese in un determinato momento. E qui, se posso completare il quadro, la legge aveva previsto un comitato interministeriale ristretto che appunto fornisse di indirizzi in questi casi più complessi e comunque ad esse le direttive di politica degli armamenti in termini di esportazione, il CISD, che però per varie vicissitudini praticamente fu già nel 1994 soppresso e le cui competenze non sono mai state riassegnate ad un altro comitato. Quindi la legge a questo punto si contraddice un po' perché in alcuni commi continua a citare questo CISD che però da 27 anni non esiste e in altri commi dice che le direttive di politica degli armamenti le fa il Ministero degli Esteri in raccordo con il Ministero della Difesa, con la Presidenza del Consiglio, però è una norma non operativa perché non stabilisce le modalità di questo raccordo che quindi è lasciato un po' caso per caso e questo naturalmente indebolisce anche il ruolo dell'autorità che io rappresento perché naturalmente senza una chiara linea politica che decide è difficile per noi interpretare quali operazioni siano autorizzabili e quali no. Quindi sicuramente questo è un punto un po' debole dell'attuale impianto della legislazione che per il resto invece è abbastanza secondo me efficace perché perché la legge sia del 90 è stata continuamente aggiornata soprattutto sul fronte europeo quindi in realtà l'ultimo aggiornamento del 2013 direi ci pone sostanzialmente in perfetta linea con le posizioni dei paesi partner dell'Unione Europea ma anche in ambito internazionale più ampio quindi sotto quell'aspetto non vedo grossi problemi. Su quello che citavo prima ecco sicuramente la legge non aiuta molto a prendere le decisioni giuste in tempi rapidi. Bene, la ringraziamo molto, è stata un'audizione di grande interesse e da modo alla Commissione sicuramente di riflettere ulteriormente, ragionare e poter elaborare anche dei propri indirizzi, la ringraziamo per il suo lavoro e per tutti l'esposizione e anche per la disponibilità con cui è risposta a domande oggettivamente anche impegnative e complesse. Grazie. Grazie mille Presidente, grazie.